Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, siamo qui che analizzeremo la prima giornata dell'avvenzione femminile, questo pulsco detto come si chiama, come l'hanno voluto chiamare loro, questo mini girone con otto squadre e questa prima giornata l'avvenzione affrontata il Milan ha vinto 2 a 0, ma prima di tutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati su tutto, perché essere aggiornati su tutto è qualcosa di buono, poi ad altri miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter, perché in questo momento ci sono tante novità, soprattutto stiamo parlando di Formula 1 e parleremo di tanto, di tanto tanto altro, ma analizziamo questa partita, una partita dove la Juve non è stata mai in discussione la vittoria della Juve, una Juve che secondo il mio parere ha dominato dal primo all'ultimo minuto, ha avuto più occasione del Milan, è stata più pericolosa del Milan, una Juve che in questo momento ha molte defezioni, mi mancano tantissimi giocatrici, se andiamo a vedere come c'è stato in campo, Permagnà, Gamma, Zembrat, Salvai, Lenzini, Caruso, Girelli, Grosso, Bonansea, Nitromen e Beresteia, ha tante defezioni. Quando io ho detto che gli acquisti che aveva fatto erano pochi, perché se tu togli tre giocatrici di movimento, perché hai tolto tre giocatrici di movimento, hai tolto la svedese, poi hai tolto la Zemagnani e la Bonansea e la Boffantini e mi metti solo altre due giocatrici di movimento, così non andiamo da tutta una parte, così mi porti una squadra a indebolirti. Poi, ora hai perso la Rosucci e facciamo gli auguri a Martino Rosucci per l'intervento, è andato tutto bene, il recupero sarà lungo e speriamo che torni, sappiamo che tornerà più forte di prima. Ha perso altre giocatrici per infortunio. Il problema è che in questo momento la Juve è una squadra che si trova davvero molto in difficoltà. Addirittura è stato costretto a mettere quasi, è stato costretto a mettere quasi la Girelli a centrocampo e se noi dobbiamo mettere la Girelli a centrocampo che all'ultimo pure la Gudesdotti ha dato forfai perché non ce l'ha fatta, davvero non possiamo fare quello che sappiamo fare meglio, non riusciamo a fare quello che sappiamo fare meglio. Sono contento che è ritornata la Nielsen che ha rinnovato anche il contratto fino al 2025, è una giocatrici importante per noi e ci può dare davvero una mano importante. Una Juve che è riuscita a dominare e ad andare in gol un primo tempo, un primo tempo è stato più equilibrato dove le due squadre forse si stavano guardando, ricordiamo che sono due squadre che sono venute anche dalla settimana di Coppa d'Italia dove la Juve ha dovuto fare pure sempre supplementare contro l'Inter, invece il Milen è uscito contro Roma ma nel video di domenica scorsa, andatelo a vedere, io ho commentato la sconfitta del Milan in Coppa, lì c'è stato sul secondo gol, abbiamo visto tutto quello che è successo, ma un Milan che oggi, sinceramente un Milan che oggi mi è piaciuto, ricorderemo che nella prima parte del campionato il Milan è stata l'unica squadra insieme a battere la Juve per due volte, l'unica sconfitta della Juve nella parte della prima parte del campionato sono state proprio la battuta a Milano e a Torino, a Torino sappiamo tutto come l'ha battuta su quel calcio di rigore che ci sta, però non ci sta l'espulsione, non ci sta l'espulsione di boattini, una Juve che a un certo punto o nel secondo tempo è entrata con altro spirito, più aggressiva, più concreta, più alla ricerca della vittoria e la vittoria è andata più volte vicino alla vittoria, che grazie a un capolavoro che ormai la Juve segna solo Berestea che lascia sul posto Messias, la lascia sul posto, la va su tutta sola e batte la Giuliana ancora non contenta, la Juve cerca la rete anche con la Bonanzea, però non riesce a trovarla ancora con l'olandese vicinissima al gol del 2-0, ma a un certo punto l'attaccante più in forma del Milan, fa un'autentica giocata, un capolavoro e lì solo la bravura del portiere San Cesare da Juve, per Romagna la riesce a bloccare e a fermare davvero il tiro pericoloso di Piemonte, forse Piemonte dopo, mi sembra che dopo 6 partite consecutive, 7 partite consecutive è la prima partita che non segna, è la prima partita che non segna, poi vado a vedere bene i dati, è la prima partita che non segna e grazie anche alla grandissima parata di Peromagna che su quel tentativo di tiro di Piemonte riesce a bloccarla, ma non contenta la Juve attacca e subito, sempre un'altra volta l'ennesima azione di Berestea che viene atterrata al 95esimo, calcio di rigore, va Arianna Caruso dagli 11 metri, batte e fa il 2-0, un 2-0 che è un risultato giusto, che in tutta la partita abbiamo visto la Juve che ha fatto bene questo risultato, perché è un risultato che alla Juve alla fine l'1-0 gli andava stretto e il 2-0 è il risultato che conta, resta sempre a meno 8 dalla Roma che ieri ha vinto nel posticipo contro la Fiorentina, mi sembra che abbia vinto 5-1, una Roma che quest'anno è superare agli altri e come ha detto Arianna Caruso nella sua intervista su Twitch, su Twitter, su Twitch ha detto chiaramente il destino dello scudetto non è in mani alla Juve in questo momento, perché se tu hai 8 punti di vantaggio e questi sono i rimpianti della Juve, perché se la Juve è stata l'unica squadra a battere due volte la Roma quest'anno e la Roma è avanti di 8 punti, vuol dire che qualcosa di sbagliato ci è stato, le cose sbagliate sono state il pareggio con il Comin Casa, i due pareggi con il Sassuolo a Sassuolo e a Torino, le due sconfitte col Milan, significa che quest'anno non si è fatto un buon lavoro e per avere questi 8 punti di vantaggio soprattutto con la consapevolezza che tu la Roma l'hai battuta due volte, tu la Roma l'hai battuta due volte e la Roma in questo momento è più e più sotto da te, c'è qualcosa che non va. Vediamo un po' di statistiche, tiri totale 18 a 15, tiri importa 6 a 4, possesso palla 60 a 40, passaggi 454 contro 396, precisione dei passaggi 80% contro 77%, falli 10 a 13, abbonazione 0 per la Juve 4 per il Milan, espulsione su un'espulsione fuori gioco 3 a 4, calcita col 3 a 1, anche sui dati la Juve ha saputo sfruttare meglio, anche le statistiche dicono che la vittoria della Juve è netta, vediamo la classifica in questo momento, abbiamo la Juve, la Roma 51, la Juvenza 43, l'Inter oggi riposa, sappiamo che dall'altra parte, in questo video non ci deve essere, quella è la cosa per non retrocedere, e la prossima giornata, andiamo a vedere la prossima giornata, se mi da la prossima giornata, se mi parla del computer, la prossima giornata andiamo a vedere le partite, la prossima giornata, dove, eccola qua, la prossima giornata c'è, San Pedro, no, la prossima giornata che c'è, riposa la Roma, c'è Inter, Juve e Milan, Fiorentina, a me quest'altra cosa, sinceramente, la devo dire, questa forma è una stronzata, non è possibile che, ora la squadra riposa, l'Inter riposa, affronta la Juve stanca, ma non così, non è, queste riforme, queste riforme che vogliono fare, devi fare delle forme che entusiasmano il campionato, tu ora hai messo, hai diviso, semplicemente cosa hai fatto, la prima e cinque con le ultime cinque, hai fatto quei due bei gironi, di cinque squadre, però i punteggi sono rimasti gli stessi che avevi fatto nella sessione regolare del campionato, tu nella sessione regolare del campionato, volevi fare qualcosa di buono, qualcosa di rivoluzionario, facevi play-off e play-out, non questo, che questa, sinceramente, è una stronzata, scusate il termine, non so se, per me questo, questo format, come, come concepitora, non è buono, non è buono, non è che una squadra, per esempio, la prossima squadra, quella va a giocare, io sono riposato, ma che cos'è? Allora, mi raccomando, mi sono sfogato, perché questo format non mi piace, e lo torno a dire, non mi piace, io gli stavo dando una possibilità, però, l'eliminiamo alla prima giornata la possibilità di questo format, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere aggiornati su tutto, ciao, alla prossima, mi raccomando, commentate, mettete mi piace, sempre con una goza, educazione e rispetto, ciao! Grazie!